Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi volevo parlarvi delle uscite che io sto attendendo di più nel 2018 a breve ci sarà anche un altro video dove io vi parlerò di tutte le release fino a marzo, tipo come avevo iniziato a fare l'anno scorso poi durante l'anno un po' mi sono persa, però è un video che secondo me è interessante per segnalarvi qualcosa che secondo me può risultare rilevante nei prossimi mesi in ogni caso invece oggi vi parlo proprio di quei titoli che io sto attendendo come si attende la venuta del Messia quando siete credenti vabbè, direi di parlare e tagliare un po' il cordone ombelicale perché bisogna andare un po' spediti ogni tanto e direi che partiamo subito tagliando anche la testa al toro che cosa posso attendere ovviamente? quest'anno la mia regina, nonché fairy godmother, nonché tutto ciò che può essere, insomma io mi sento davvero quasi ai livelli di venerazione che si può avere per qualsiasi cosa, ovvero sto parlando di lei Bardugo, tanto per cambiare e quest'anno non ci grazierà con una uscita ma bensì due e ovviamente il primo è King of Scars che uscirà il 29 gennaio e che ovviamente, cioè, io non voglio dire niente perché ho un sacco ansia per questa uscita davvero io non so come ridimensionare le mie aspettative, ecco, e questo un po' mi spaventa però insomma siamo di fronte un po' secondo me anche alla prova del 9, no? veniamo da Six of Crows e Crooked Kingdom che è una duologia che ha cambiato sicuramente un sacco di cose ha settato degli standard che sono altissimi, quindi King of Scars, protagonista Nicolai che tutti noi amiamo come mai nient'altro e che credo sia veramente il personaggio più interessante e innovativo della Grisha Trilogy e quindi che non vediamo l'ora di rivedere insieme ad altri personaggi della Grisha ma soprattutto rivedremo anche Nina e poi non solo Nina, quanto è venuto fuori, ecco e va bene, e ok? Quindi adesso mi calmerò, comunque segnatevi il 29 gennaio e esce King of Scars avete un mesetto circa per leggere tutta la Grisha e leggere anche Six of Crows disclaimer, visto che tanto me lo chiederanno anche dopo questo video potete leggere Six of Crows anche senza aver letto la Grisha la Grisha però, secondo me, a mio parere, mio consiglio almeno il primo volume vi aiuta per il world building perché nonostante venga ripreso e richiamato in Six of Crows perché si svolge nello stesso mondo ma diciamo in due punti molto diversi che non hanno interazione più di tanto tra di loro potete comunque considerare le storie indipendenti in ogni caso mio consiglio almeno leggere Shadow and Bone poi se non vi piace abbandonate lì, ecco ma arriviamo invece all'altra novità di Leigh Bardugo che io attendo da tre anni perché lei lo annunciò qualche anno fa ma poi rimase lì in sordina, ci sto lavorando, non lo so beh, finalmente annunciato a giugno, ovvero per il mio compleanno esce Ninth House, ovvero una storia che avrà a che fare con università, con fraternite, sette segrete, mistero cioè io bramo quel libro, lo bramo tantissimo da quando ne parlò la prima volta quindi figuratevi ora che finalmente è stato annunciato e davvero non vedo l'ora di metterci le mie manine sopra anche perché voglio confrontarmi con un qualcosa della Bardugo che non abbia nulla a che fare con il Grishaverse e vedere se anche in altri ambiti è così brillante, così interessante ecco, vedremo, insomma il 2019 si prevede un anno super super intenso per la nostra regina, con lei che veneriamo dall'alto della sua magnifica gotificenza ecco poi altro titolo che sicuramente quando uscirà questo video probabilmente mancherà molto poco è Slayer di Kirsten White voi sapete che io la amo e che penso davvero che lei stia esaudendo tutti i miei sogni i miei più remoti reconditi desideri evidentemente perché ha scritto un retelling di Vlad Dracul con un personaggio che io amo Elizabeth Frankenstein che è una sorta di rework di Frankenstein in realtà che mi è piaciuto moltissimo e ora sta per uscire con Slayer che diciamo riprende alcuni elementi dal mondo di Buffy voi sapete che Buffy se mi seguite da un po' è uno di quei punti fermi della mia vita cioè Buffy per me è la serie non definitiva perché ce ne sono altre che mi piacciono di più però comunque è una di quelle serie a cui io sono affezionatissima e che trovo meglio di tantissime serie che escono ora sotto ogni punto di vista nonostante il budget fosse molto più risicato ecco e quindi insomma quest'idea di lei che ambienta una storia con un ammazzo a vampiri che volete che vi dica c'è un castello di mezzo anche a scoprire pochi spoiler ma non sto cercando di tenermi lontano dagli spoiler comunque insomma il giorno che esce sarà sul mio comodino per forza poi molto a breve ovvero a febbraio, inizio febbraio esce On the Come Up di Angie Thomas che è un nuovo libro della stessa autrice ovviamente di The Hate U Give che ha a che fare invece con il mondo del pop è una protagonista che vuole diventare una star ma saranno tante difficoltà insomma anche lì sarà un libro che parlerà del trovare la propria voce trovare la propria dimensione è una cosa che io amo molto questa e quindi insomma non vedo l'ora perché per me The Hate U Give è stato uno dei libri migliori che ho letto l'anno scorso ed è stato sicuramente uno dei debutti più interessanti degli ultimi anni nel panorama per ragazzi quindi assolutamente curiosa di vedere altri lavori di Angie Thomas e vedere se riuscirà a destreggiarsi allo stesso modo manca molto poco eh cioè io questo ve lo segnalo perché credo sia l'uscita più interessante di tutto il 2019 e probabilmente uno di quei fantasy che io non ho ancora finito ma comunque già penso che sia il fantasy della vita ok? e questo secondo me setta tantissime aspettative soprattutto su di voi è un libro che non si legge velocemente eccetera però insomma vi parlo, io ce l'ho già perché me l'ha inviato Bloomsbury è della stessa autrice di The Bone Season ovvero Samantha Shannon e guardate quanto pesa, quanto è gigante comunque sto parlando di The Priory of the Orange Tree è il fantasy della vita ve ne parlerò appena lo finisco perché se fallisce nelle ultime pagine io mi buffalisco proprio è un libro che sto leggendo lentissimamente perché è veramente molto complesso mi ricorda per alcuni per la complessità di alcune cose Game of Thrones scritto come se George R. R. Martin sapesse scrivere e io gli voglio un grabene ragazzi lo sto dicendo consapevole di tutto è un bestione questa è la copia tra l'altro non ancora editata quindi immaginatevi quanto avranno aggiunto ragazzi questo è una delle uscite che secondo me sarà più interessante proprio dei prossimi anni e quindi se volete tenerlo d'occhio tenetelo d'occhio io sto amando sto amando tantissimo quindi è come un piccolo bambino piccolo insomma più o meno pesa come un bambino appena nato segnatevi The Priory of the Orange Tree perché davvero è una di quelle uscite che dovete tenere d'occhio poi questa sarà una segnalazione un po' controversa perché devo dire che negli ultimi mesi mi sono ritrovata spesso a rivalutare alcuni elementi di Children of Blood and Bone cioè devo dire che mentre alcune cose sul momento mi erano piaciute tanto ragionandoci spesso e su questo libro ho ragionato tantissimo soprattutto negli ultimi mesi quando stavo facendo un bilancio e quando stavo confrontando alcuni elementi con altri libri devo dire che il mio voto è drasticamente calato ecco non supererebbe le tre stelline ora rispetto alle quattro che le avevo dato inizialmente e devo dire che però proprio per dare una seconda possibilità diciamo a vedere anche se alcuni elementi sono stati risolti nel seguito voglio sicuramente leggere Children of Virtue and Vengeance perché devo capire se alcuni elementi sono stati sistemati perché trovo che Tommy Adeyemi abbia sicuramente scritto qualcosa di estremamente originale per alcuni versi ma come già secondo me vi segnalavo nella recensione che vi linko qua ci sono troppi elementi già visti e l'esecuzione di alcuni di essi non mi ha convinta ecco devo dire che sia un po' inaspritta la mia opinione negli ultimi mesi eppure comunque è una serie che mi attira molto mi incuriosisce e per questo voglio leggere il seguito per questo voglio vedere come andrà avanti anche solo per confermare alcuni dubbi anche solo per smentirli insomma proprio questo è il motivo per cui voglio leggere il seguito uscirà il 5 marzo quindi insomma attendiamo sempre a gennaio poi finalmente uscirà The Kingdom of Copper ovvero il seguito di City of Rust del quale vi parlerò tra molto breve perché è una serie che merita attenzione ma proprio a dei livelli incredibili comunque è uno di quei seguiti che proprio sto attendendo perché non l'ho letto prima cioè la domanda che continuavo a chiedermi e continuavo a farmi durante la lettura ma perché non l'avessi letto prima ma porca miseria invece no ho perso tempo con altre schifezze oppure no vabbè sto scherzando ovviamente però è uno proprio di quei libri che secondo me è estremamente brillante originale ha un'ambientazione pazzesca dei personaggi super super interessanti e quindi io non vedo l'ora di continuare con questa serie poi quest'anno sarà anche un anno dove anche Jay Kristoff che non si lascia mai mancare niente ci regalerà un sacco di titoli allora devo dire che tra tutti questi il mio proprio più atteso è ovviamente Dark Dawn ovvero l'ultimo se non erro ma potrei sbagliare di Nevernight ovvero la conclusione ma è il mio modesto parere anche se la trovo difficile concludere in un libro ma se non lo fai taglio la gola stavolta perché l'ennesimo cliffhanger io non me lo merito ok? io non me lo merito e quindi insomma Dark Dawn è sicuramente il titolo che proprio sto attendendo di più anche perché dovevo uscire a settembre è stato spostato e rimandato a me non mi frega niente io voglio averlo sul mio comodino subito ok? quindi non vedo proprio l'ora che esca in più usciranno anche The V8 che è il seguito di Lifelike che vedremo e poi uscirà anche una nuova serie scritta insieme alla sua amicona Amy Kaufman che si chiama Aurora Rising e poi vediamo è una serie molto sci-fi che a me non attira tantissimo come ambiente eccetera però magari gli darò una possibilità ecco a breve uscirà anche beh devo dire tutti a breve avrò abbastanza gioia quasi subito durante l'anno ok? a breve uscirà anche With the Fire on High di Elizabeth Athevedo che io però ho già qui non l'ho ancora letto però ce l'ho già e sono molto molto curiosa perché come sapete tutti ormai ve l'ho spronocchiato in ogni video The Poetics per me è una raccolta bellissima e quindi spero che anche con questo nuovo lavoro si confermi il suo talento e si confermino tutte le mie aspettative ma poi arriviamo al finale cioè arriviamo all'ultimo titolo che io proprio attendo da troppo tempo di nuovo questa è una delle mie uniche religioni ovvero Night Circus ovvero il Circo della Notte di Erin Morgenstern se c'è una persona che personalmente ritengo una delle scrittrici più brave che abbia mai incontrato negli ultimi 15 anni quantomeno di tutto ciò che è stato scritto negli ultimi 15 anni è Erin Morgenstern che so divide tantissimo il pubblico ecco lo capisco benissimo però lei scrive esattamente come io spero che qualcuno scriva una storia per me però bando alle ciance Night Circus è del 2011 e noi abbiamo teso 8 anni per avere un altro libro di Erin Morgenstern insomma innanzitutto se non avete mai letto leggete Night Circus trovatelo fate in modo di leggerlo ma finalmente il 5 novembre esce The Starless Sea che è il suo nuovo romanzo io devo dire non voglio neanche leggere la sinossi non me ne frega niente di leggere la trama perché voglio un po' venire sorpresa è un po' la stessa sensazione che ho avuto con Night Circus se no inizio a farmi teorie e robe varie che non mi interessano perché non è rilevante e quindi insomma io sono curiosissima di leggere anche il suo nuovo romanzo tra l'altro stavo pensando anche questa cosa che non c'entra nulla ed esula dal video perché insomma è una cosa che stavo pensando da un po' però quest'anno mi piacerebbe rileggere alcuni dei romanzi che mi sono piaciuti di più alcune cose che ho un po' dimenticato da tempo come magari The Night Circus Middlesex e altre cose se vi va ok questa è una proposta estemporanea che mi è venuta in mente adesso se vi va potremmo farli insieme potremmo organizzare una sorta di gruppo di lettura purtroppo i titoli saranno un po' imposti dall'alto se vi interessa comunque darci un po' di spazio durante l'anno per fare o delle riletture vorrei che fosse magari una cosa cioè non so è veramente super estemporanea come proposta però magari qualcuno di voi che guarda il video potrebbe sicuramente esserne interessata vorrei rileggere Night Circus Middlesex e altre cose durante l'anno e quindi magari potrei farlo insieme a voi se non le avete mai lette e leggerle per la prima volta insieme oppure anche rileggere e dare una spolverata ecco quindi se vi va insomma scrivetemelo sotto nei commenti comunque 5 novembre esce The Starless Sea nuovo libro di Erin Morgenstern e quindi io quest'anno avrò un sacco di gioie quindi sono molto felice per questa cosa sono davvero molto soddisfatta perché quest'anno escono libri della Bardugo della White di Jay Kristoff esce un libro di Samantha Shannon bellissimo che vi consiglio esce il nuovo libro di Erin Morgenstern escono tante cose secondo me che meritano attenzione quindi io non vedevo l'ora proprio di segnalarvi qualcosa poi a breve vi farò proprio una release proprio dettagliata di tutte le uscite da qua a marzo però insomma questo volevo che uscisse abbastanza presto per darvi un po' una panoramica di tutte le cose belle che mi renderanno felice nel 2019 quindi sarò forse un po' meno brutale nelle mie nel mio modo di fare non ne vedo però insomma sono molto davvero contenta e soddisfatta di tutti i titoli che usciranno e se Erin Morgenstern comunque come Madeline Miller ci mette nove anni a scrivere un libro ma scrive il libro della vita per me va bene io faccio cambio con chiunque pubblichi 100 libri l'anno ok? e quindi niente siamo arrivati alla fine del video come vi dicevo prima fatevi sapere giù che cosa ne pensate magari di rileggere qualcosa insieme ecco e dall'altro lato però invece voglio sapere quali sono i vostri almeno tre titoli più attesi di quest'anno sono molto molto curiosa e niente io direi che per oggi siamo arrivati alla fine anche di questo video ovviamente vi segnalo sempre giù tutti i miei link ai social a Ko-fi se volete offrirmi un caffè o i miei link di affidazione a Amazon e direi che a questo punto ci vediamo al prossimo video ciao